Benvenuti nel livello di modello dell'ottima episodio di Woffstein e degli Wortari Come sempre sono di gioco nel vuoto E siamo venuti qui che dobbiamo torturare forse il povero generale Strasse Povero, per modo di dire Quindi, cominciamo a divertirci Intanto controlliamo un po' in giro cosa c'è Ho notato che ci sono vecchie cosette interessanti Tipo questo che è un trofeo orologio d'oro Una motosega Mmm, interessante Altro No, non c'è nient'altro Ok, prendiamo la motosega e vediamo cosa succede Ehm Protezione necessaria Ok, ah, va bene Beh, certo perché Immagino Capisci chi sono? Ti conferrebbe smettere Ciò che stai facendo E liberarmi Ah, ah Mi sa che stai a brutta fine, frate Devi capire Dannato pozzo Che sono superiori a quelli come te Ah, sì? Vedremo Vediamoci la morte Ti farà cambiare idea Ah, ok, non devo colpirlo Oh, sì, vai Oh, sì, vai Quelli della resistenza Non so Non so proprio di che cosa parli Non c'è alcuna resistenza No, 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 no Che cosa vuoi sapere? I ribelli della resistenza Dove sono? Berlino Prigione di Eisenwald Non potrei raggiungerli Abbiamo posti di blocco Ti cercano Cercano te E con l'infermiera Presto troveranno questo posto E allora sarai tu Quello in ginocchio Beh, mi sono giusto Alla stima E allora Che cosa vuoi? E? Sei un pollo Tu sei un pollo Pani Vlaskovici Non è un pollo Non è un pollo come io Ma non è un pollo Non è un pollo Non è un pollo Non è un pollo Pugno 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 Perfetto Pugno 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 Invochiamo la tua misericordia signore Nel nostro viaggio attraverso le scure acque Concedici passo fermo E respiro silenzioso Pugno 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 Era ovvio che ci bloccavano animo poi sicura tu uccidi i nazisti ok resto qui con auto stai giù Noi ti aspettiamo qui No problema fratello Allora Prendiamo intanto questa armatura Proiettili che schifo non fanno Ok Vediamo un po' dove dobbiamo andare Ne ho aperto questa porta intanto Non si può andare Perfetto Ho capito Fammi vedere dove devo andare Allora ragazzi Qui potremmo fare lo stealth Ma sinceramente oggi non c'ho una voglia Proviamo ad andare qui sopra intanto Perché vedo che c'è una strada Quindi proviamo Ed è abbastanza strano che non trovo nemici Ok Allora E dai Maledizione deve sta fermo Non l'odio sta cosa ragazzi Proprio una cosa che odio questa Mi scivola il dito Allora con calma Niente 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 Lasciamo perdere Ma non è mai scivola il dito Non so perché Ok andato Fuori uno Sistema frega No direi che non è proprio il momento Allora Vediamo un po' di fare fuori queste torrette di merda Ok fuori uno Fuori due Comunque ragazzi La storia si farà sempre più interessante Tranquilli So che sembra noiosa Ma non lo è Merda Ho finito le munizioni Si ho finito le munizioni Porco Due Accidenti Eh non me l'aspettavo Merda 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 Dai prendi le munizioni Perfetto No 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 Ok Va bene Allora ragazzi Cerchiamo di farli fuori tutti Nel minor tempo possibile Ok Altre munizioni Qui Munizioni Munizioni Cortello Perfetto Munizioni Ok ok Adesso dobbiamo stare abbastanza bene Si infatti Qui c'è qualcosa No Ah vita 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 Va bene Va bene così Assolutamente Tanto alla fine ragazzi A quanto vale Dobbiamo solo uccidere i forturi nazisti Allora Qui sopra Si arriva solo dall'altra parte Quindi andiamo dall'altra parte Eh 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 Ho fatto solo un giro di ricognizione Andiamo per di qua Saliamo le scale Ok Si a quanto pare Non si può mirare Con la Con i roppi armi Torniamo all'auto Torniamo all'auto ragazzi Allora Miriamo le munizioni Che schifo Non fanno mai Qui c'è qualcosa Ok ragazzi Scusate Penso di aver fatto Scusate ragazzi Penso di aver fatto piccolo taglio Ma c'è stato un piccolo problema Mi si è staccato il microfono Mi si è staccato il controller Non so il perché Avrei forse Avete visto per un attimo Una schermata Ah perfetto Abbiamo La mappa adesso Ottimo Mi si è staccato il controller Ma se ci sono a me ragazzi Questo è successo anche a voi Scusatemi eh Ma Non capisco Va bene Andiamo alla macchina Va E possiamo terminare qui l'episodio Direi Ogni tanto Ogni episodio Ci resta in problema Comunque Bene ragazzi Io mi ringrazio per il visto Vi lascio un like Un commento Se piacere se volete Iscrivetevi al canale Al vostro giallo E' tutto Stay Hello